Ciao ragazzi, qui è Strano che vi parla. Oggi è l'Earth Day, la giornata della Terra. Sì, la nostra cara e preziosa Terra, che ci ospita, che ci regala ogni giorno l'ossigeno per respirare, per vivere, che ci dona i frutti della sua Terra, e non chiede nulla in cambio, se non una cosa, di rispettarla. Quindi amiamola come facciamo con i nostri genitori, con i nostri figli, i nostri amici, i fidanzati, le fidanzate. Accarezziamola come facciamo con i nostri compagni a quattro zampe. Sì, proprio loro, i nostri amici a quattro zampe, da loro dobbiamo prendere esempio. Loro la Terra la rispettano, non la sovrastano. Quindi amiamola, perché più lo faremo, più lei ci permetterà di vivere in un ambiente migliore, più salubre. Più la maltratteremo, più lei ne soffrirà, e di conseguenza ne soffriremo anche noi. Ognuno nel suo piccolo deve dare il proprio contributo, così da lasciare a chi verrà dopo di noi un meraviglioso pianeta Terra. Ragazzi, one people, one planet. Ne abbiamo solo uno. Proteggiamolo sempre. Ciao.